Non possiamo permettere ai protagonisti della stagione più buia della città di Teramo, i cui danni scontiamo ancora oggi, soprattutto economicamente, di fare a noi la morale. Non lo permettiamo a chi ha perso diverse cause al Tar proprio per mancata trasparenza degli atti, a differenza di questa amministrazione che mai ha subito uno smacco del genere. Esordiscono così in una nota i gruppi consigliari di maggioranza al Comune di Teramo, replicando al grave attacco subito dall'opposizione per aver votato contro l'istituzione della commissione d'indagine sul teatro comunale. Esternazioni che sarebbero state dettate dall'invidia nei confronti di chi, per la prima volta in più di 60 anni, riesce a mettere mano ad una struttura distrutta per interessi commerciali contro la vocazione culturale di una città, la quale nel giro di questo mandato consigliare vedrà un teatro funzionante e finalmente fruibile in tutte le sue parti, ai fini dello spettacolo e della cultura, aprendosi alla comunità, ai cittadini teramani e nonno. Circa la richiesta di una commissione d'indagine, la maggioranza poi ricorda che non ci sono state segnalazioni di gravi irregolarità da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o del Difensore Civico Regionale e circa la motivazione della richiesta non risulta in alcun modo adeguato, in quanto politici, sostituirsi all'operato di un magistrato che si è espresso già nel merito. La maggioranza infine è precisa che dovendo stringere per concludere in tempo i lavori del teatro comunale, si sia deciso di accelerare i tempi trovando un accordo con il privato, ossia la società VeroSRL, che equivale ad appena il 6% circa di quanto richiesto dalla controparte. I gruppi consigliari giudicano quindi sterile ed inutile la propaganda politica sfoderata sul teatro dai gruppi di minoranza.